Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, sono GamerMatte87 e vi faccio vedere un nuovo episodio di World of Warcraft. Maglio in Fausto Creata 12.000 anni fa da una setta segreta di occultisti e elfi della notte, l'antica città di Eldrethalas fu utilizzata per custodire i segreti arcani più preziosi della regina Azara. Nonostante sia stata devastata dalla grande separazione, buona parte della splendida città ancora si erge col nome di Maglio in Fausto. I tre distretti delle rovine sono stati occupati da ogni genere di creatura, ma in particolar modo dagli spettrali altinobili, dai malvagi satiri e dai brutali ogre. Solo i gruppi di avventurieri più spregiudicati possono entrare in questa città decadente e affrontare il male che si annida nelle sue antiche cripte. Ciao ragazzi, oggi vi farò vedere Maglio in Fausto che si trova a Feralas in Kalindor. Questa spedizione è divisa in tre, diciamo, mini spedizioni. Quella che vi farò vedere oggi è la seconda spedizione. Questa spedizione è la seconda spedizione. Questa spedizione è la seconda spedizione. Questa spedizione è la seconda spedizione. Grazie a tutti 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 Noi rientriamo perché tanto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti